A sei anni dalla drammatica alluvione del 2011 che mise in ginocchio la Lunigiana, è stata Nella Lippi, 94 anni, a inaugurare insieme al presidente della regione toscana Enrico Rossi un nuovo ponte di Stadano sul Magra ad Aulla. Ricostruito dopo il disastro, con i suoi 139 metri, è il ponte sospeso più lungo d'Italia. I lavori sono cominciati nel 2015 e si sono conclusi in meno di due anni, costo 8 milioni e mezzo di euro. Poi è stata la volta del nuovo plesso scolastico di Aulla, che comprende un asilo nido, la scuola materna e la scuola elementare, collegate fra loro da una palestra, mentre una passerella esterna porta fino alla mensa. Gli edifici possono ospitare complessivamente 420 bambini e si trovano all'interno dell'area dell'ex scalomerci, ora recuperata. Costo dell'intervento 9 milioni e 300 mila euro. Abbiamo fatto tutto quello che avevamo promesso, questo è il punto. La regione toscana e i suoi tecnici, ma anche i sindaci a livello locale, alla fine tutti in un arco di tempo forse troppo lungo a causa di leggi, burocrazia, però sono riusciti a fare la ricostruzione. Quindi vedere che oggi la città ha un plesso scolastico nuovo, bello, efficiente e oltretutto è stata valorizzata una zona della città scelta dalla cittadinanza, sicuramente è motivo di grande soddisfazione. Complimenti, complimenti anche alla struttura del Genio, agli ingegneri che hanno fatto la direzione dei lavori, tutte le opere accessorie, perché ora la regione può anche vantare una struttura operativa molto presente e anche molto impegnata sulle altre opere di messa in sicurezza di questo territorio che vanno ovviamente avanti. Prima di inaugurare il ponte e le scuole, il sindaco Roberto Valettini ha conferito la cittadinanza onoraria di Aulla al presidente Rossi. E intanto i lavori proseguono. Entro agosto sarà completato il ponte sul Teglia a Castagnetoli e quello sul fiume Mangiola a Mulazzo. Per la ricostruzione della lunigiana sono stati stanziati complessivamente più di 105 milioni di euro.